ciao a tutti benvenuti qui su pennello per le sue carte oggi andiamo a vedere grazie ai miei tarocchi le previsioni per settimana prossima farò due stese di carte che ti invito ad ascoltarle entrambe magari una per te e una per un'altra persona le numero le contraddistingue con il numerino 7 e il numero 1 fai la tua scelta se hai bisogno di più tempo metti in pausa il video io partirei subito andiamo a vedere la settimana per il mazzetto numero 7 andiamo a vedere che cosa ci riserva la prossima settimana allora da quale da quale situazione si parte queste persone qual è il loro presente qual è il presente per coloro che hanno scelto il mazzetto numero 7 qual è il momento presente però c'è male allora quali saranno quali saranno gli ostacoli a cui potrebbero andare incontro durante la settimana quali ostacoli questa e questa cosa sta per accadere nella vita di queste persone cosa sta per accadere quale sarà dunque l'evoluzione della settimana per queste persone quale sarà l'evoluzione no è incredibile mi fa quasi paura dirvelo comunque magari ve lo dirò un altro guarda una cosa queste due carte insieme vabbè lasciamo stare allora eccola la neanche ho fatto la domanda andiamo a vedere chiedo lumi sul futuro quindi sul nocciolo sul sunto della situation quale sarà quindi il sunto della settimana tutta come fa però va tutto bene guardate come la vostra settimana e questa cartina la riconoscete è quella che uso per i miei video lui e lei quindi qui lui e lei che si amano pucci pucci miau miau quindi state 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 tranquilli allora partiamo ora parte gli scherzi allora al momento presente qui ci sta che insomma qui fanno vedere delle carte mamma mia ve le giro per farvele vedere però qui c'è una situazione abbastanza ambigua caosica confusa nervosa che vi fa abbastanza ancavolare qui non so se siete più arrabbiate o arrabbiati naturalmente mi rivolgo anche agli uomini se siete più arrabbiata arrabbiati o più delusi amareggiati e tristi queste sono arte che mi parlano di un qualcosa che salta un qualcosa o che è già saltato che salterà proprio durante questa durante questa settimana qui c'è un qualcosa che salta non so se è questa donna che fa saltare tutto se semplicemente mi fanno vedere il vostro stato d'animo di donna diciamo ok quindi comunque sia c'è un qualcosa il succo è quello c'è un qualcosa che salta può essere un appuntamento può essere una telefonata che aspettavate che non arriva può essere uno spostamento anche qui perché qui vedo dei progetti magari c'era in progetto un qualcosa che è saltato o che salterà durante durante la settimana e bla 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 l'ostacolo eccolo là è questo signore qua ora che questo signore lo faccia apposta perché è uno ecco o perché poverino ha dei problemi avrà dei problemi questo non è dato sapere o magari è semplicemente un discorso diverso per ognuno di voi perché ognuno di voi avrà una situazione familiare personale lavorativa diversa comunque il succo cambia il succo qual è qui c'è una donna molto molto arrabbiata se voi siete l'uomo voi siete l'uomo non è che siete la donna voi siete l'uomo che magari fra virgolette farà arrabbiare sta donna quindi magari siete voi che sarete costretti a far saltare qualcosa e la donna si incavola di brutto ve lo dico comunque qui c'è una donna vi ripeto arrabbiata delusa amareggiata su un qualcosa e qui l'ostacolo potrebbe essere proprio questo uomo in che senso questo uomo potrebbe lo dico per le carte tutte avere una famiglia da qualche parte quindi magari ho avuto dei problemi con la famiglia e non vi può vedere non vi può chiamare insomma i casi possono essere i più disparati è inutile stia elencarli tutti voi conoscete la vostra situazione il succo è quello per tutti un cambia il messaggio qual è c'è un qualcosa che salta che sia una comunicazione che sia un viaggio che sia un cambiamento qui ci sono delle notizie negative o delle notizie che non arrivano va bene di qualsiasi natura esse siano ma ma si parte da questa situazione stavo dicendo però poi dopo il discorso cambia qui cosa sta per accadere qui mi fanno vedere innanzitutto queste due persone è incredibile incredibile io stessa che faccio le carte è incredibile un giorno vi spiegherò perché quindi queste due carte che mi sono uscite così da paura e tutto il resto può questo bellissimo modo di coppe cosa mi dicono che questa situazione qui che per ognuno di voi può essere una situazione diversa sapete voi cosa state vivendo si va a risolvere perché perché qui c'è una comunicazione che arriva e c'è magari pure un incontro che arriva quindi o è un incontro vero e proprio quindi riuscirete ad incontrarvi finalmente dopo tanto travaglio va bene o come minimo a sentirvi quindi qui come minimo c'è questa persona che si fa risentire ora poi andiamo ad ampliare andiamo a chiedere andiamo a chiedere ancora qui mi fanno vedere a mio modestissimo parere per carità poi possono essere anche una coppia di genitori magari dovevate fare qualcosa con i vostri genitori ma è saltato per via del padre che non ha potuto insomma non andiamo a pensare subito a tizio di cui siete follemente innamorate e non vi chiama da tre anni e mezzo con delle previsioni settimanali non è che vi sto parlando di lui cioè non so se mi spiego gli interattivi in cui chiedo tizio torna allora già è un altro discorso ma io sto chiedendo cosa succede in una settimana quindi si può parlare lo capite di qualsiasi persona non è che ho chiesto giuseppe torna dopo 15 anni e non mi chiama ridimensioniamo perché le alte poi recriste loro il suo lo fanno però bisogna anche essere noi intelligenti a capirne il messaggio detto questo comunque qui di affetto come minimo si parla perché c'è questo due di coppe quindi qui c'è una situazione affettiva ma affettiva ripeto può essere affettiva anche con un genitore per esempio con una mamma con un padre non è detto sia solo l'amore questo è l'amore ma l'amore è l'amore può essere l'amore per un figlio per un genitore per un compagno una compagna bla 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 comunque detto questo qui c'è un qualcosa e può essere anche l'amore quindi sicuramente sarà così qui mi fanno vedere questa coppia che si riunisce che si ritrova ok che si risente e magari che si rivede pure perché io ci posso vedere anche ci posso vedere anche un incontro durante questa settimana fra queste due fra queste due persone guardate come sono belle ok quindi qui secondo me ci deve essere stato o magari c'è in ballo ancora adesso in questa settimana ci deve essere stato o un qualcosa che è saltato nel senso che questo signore non si è fatto vivo va fatto arrabbiare ok un qualcosa di questo tipo va fatto arrabbiare però ecco dovrebbe rifarsi vivo se non si è fatto più sentire dovrebbe rifarsi vivo durante questa settimana sicuramente vi ho detto può essere proprio un un rifarsi vivo ma anche più semplicemente come si dice un un incontrarsi vero e proprio va bene qui effettivamente fanno vedere che qualcosa è successo in passato e fanno vedere anche carte di famiglia famiglie e figli quindi qui effettivamente potrebbe pure essere che qualcosa è successo vedi la casa e tutto quanto che qualcosa sia successo andiamo a chiedere lui vediamo un pochino questa carta del futuro prossimo che cosa mi dice che cosa mi dice vedi c'è proprio un cambiamento di situazione quindi qui c'è questa persona con cui magari ci era saltato un qualche cosa che si fa risentire a giusta le cose ora può essere anche un appuntamento con il vostro medico che aveva bidonato ora faccio per riportarsi con i piedi intera non credo sia questo se no l'avrei visto ma ok non andiamo a pensare subito al nostro ex cos'altro dicono ste carte vediamo e vedi quindi qui c'era un qualcosa una comunicazione magari che si era interrotta che non c'era più magari avevamo litigato c'eravamo dette cose detti cose brutte durante la settimana il discorso viene aggiustato vedete voi che situazione avete esatto no sono carte troppo belle queste qui si parla di una coppia sono carte troppo belle più si parla del dentista che vi chiama per ridarvi l'appuntamento cancellato c'è poco da fare queste sono carte parecchio parecchio belle ok poi insomma voglio dire questo due di coppe già già la diceva lunga comunque detto detto questo fanciulli e fanciulle più una settimana molto molto bella in cui si parte da una situazione per carità che ci vede arrabbiate delusi amareggiata insomma c'è un qualcosa qui che è saltato o che deve proprio saltare però poi le cose si vanno a sistemare durante e anche in modo egregio perché qui vi vedo molto 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 felici e qui c'è un qualcosa che proprio wow una comunicazione io credo poi da lì viene fuori viene fuori tutto io penso anche un incontro è sinceramente andiamo a vedere andiamo a vedere cos'altro ci dicono queste carte per prossima settimana mazzetto numero mazzetto numero 7 guarda il divertimento il divertimento e la gioia quindi sicuramente qui c'è un qualcosa che vi farà molto 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 felici molto molto contenti c'è una gioia in arrivo praticamente una gioia un divertimento un qualcosa che proprio vi renderà tanto tanto felice io sono proprio contenta qui c'è il divertimento quindi proprio anche un'uscita anche un'uscita che magari avevate rimandato un'uscita una celebrazione insomma un qualcosa che vi farà sicuramente piacere vivere questo è poco ma sicuro ho messo anche vi lascio il link qua sopra ok ma anche in fondo al video sotto nella descrizione del video ho fatto anche l'oroscopo per i segni zodiacali ok per il mese di febbraio ve le devo tradurre l'amore e l'indipendenza la gioia indipendenza e l'amore quindi qui c'è veramente l'amore in arrivo l'amore di una persona che bene o male ci aveva guarda posso vederla in due modi o l'amore di una persona come abbiamo visto all'inizio che ci aveva deluso ci aveva fatta arrabbiare o comunque ci aveva lasciate sole o soli oppure semplicemente arriva proprio perché eravamo soli delusi amareggiati e quindi durante questa settimana potrebbe arrivare questa persona ci sta anche ci sta io tutta sta novità non la vedo secondo me si tratta di qualcuno già che già conosciamo di già esistente però insomma non chiudiamo le porte alla provvidenza insomma questo è una stessa molto molto bella che parla di comunicazioni di movimenti di divertimenti e di gioie in in arrivo quindi belle belle farmi sapere giù nei nei commenti setto numero uno andiamo a vedere la settimana tua settimana la settimana per voi per te allora qual è il momento presente da quale situazione si parte ok quali saranno gli ostacoli cosa sta per accadere mazzetto numero uno cosa sta per accadere quale sarà l'evoluzione qual è dunque l'esito della settimana tutta qual è l'esito della settimana tutta ho sentito qualcosa volare allora eccola eccola la poi naturalmente andiamo a chiedere ma allora qui c'è molto nervosismo molta agitazione per un qualche cosa però effettivamente qui la carta è bella mi parla di nuovi inizi qui c'è un qualcosa che inizia o che dovrebbe iniziare o che ci stiamo adoperando a fare iniziare ok sicuramente guarda qui c'è l'intenzione la voglia il desiderio il progetto di partire con qualcosa magari forse un proprio lavoro scusate magari forse proprio un un lavoro proprio un lavoro anche perché poi vedo lo stipendio vedo dei soldi che arrivano ma siccome qui c'è anche la pausa un fermo qui potrebbe pure essere vedi che stiamo aspettando allora vedo due cose guardandole tutte insieme poi andiamo mano mano due cose o vi richiamano al lavoro siete in pausa lavorativa quindi non lo so ci potrebbe essere chi di voi è come si chiama in cassa integrazione no che ti hanno messo un attimo fermo lì da una parte o semplicemente che il lavoro non ce l'avevi e lo devi iniziare che fanno vedere questa novità questa cosa questa cosa nuova ma siccome vedo anche la pausa momentanea e poi lo stipendio i soldi che arrivano durante la settimana qui ci sta anche come dicevo che ti richiamano ma ci sta anche come stavo dicendo che siate in pausa lavorativa ma che stiate aspettando dei denari di qualsiasi forma o natura essi siano va bene che sono in ritardo saranno in ritardo ma che vi dovrebbero arrivare come si dice o da un ente cioè come aiuto come aiuto come sostentamento quindi non so il reddito di cittadinanza piuttosto che come si chiama la cassa integrazione proprio piuttosto che un assegno di un qualche tipo che ne so io la pensione lo sapete voi ok durante questa settimana quelle cose le cose si muovono se non dovesse arrivare durante proprio questa settimana siccome vedo la pausa e ritardo un po così ci sta che arrivino subito dopo quindi appena finita la settimana arrivino nell'altra un pochino un pochino dopo dalle previsioni che stiamo guardando noi non so se mi spiego va bene oltre a questo adesso andiamo andiamo anche ad ampliare come vi stavo dicendo qui c'è un qualcosa che inizia e parte però è come se vi dovesse a parte che la cosa potrebbe richiedere un pochino più di tempo nel senso un pochino più di preparazione quindi magari avete chiesto aiuto a qualcuno o chiederete aiuto a qualcuno è stata aspettando la risposta per esempio ma questo è proprio un esempio non c'entra nulla per esempio dovete imbiancare casa avete chiesto un preventivo è stata aspettando la risposta finché un bravano un parte lavoro per dire piuttosto che che ti devo dire vuoi aprire uno studio tutto suo ha chiesto un finanziamento stai aspettando la risposta dalla banca che ti dia questo aiuto monetario ecco un esempio per farvi per farvi capire ok ma andiamo a vedere perché io vedo proprio dei soldi che arrivano dei soldi anche da un qualcosa che avete già fatto ecco perché ti dico vedi c'è da guarda guarda c'è da aspettare però allora qui c'è da aspettare anche per dei denari che devono arrivare come aiuto come aiuto di un qualche tipo che sia la pensione che sia un reddito di cittadinanza quello che vi pare ok vediamo esattamente quelle cose sono ferme sono ferme o si fermeranno quindi o avete già iniziato state iniziando questo qualche cosa però c'è uno stop un fermo come vi stavo dicendo ok o semplicemente tutto questo accadrà durante la settimana che la cosa si debba fermare rallentare un attimino quindi c'è anche questo è durante la settimana però ecco lo vedo come fermo una pausa un ritardo non lo vedo una cosa che salta non so se mi spiego qui un salta nulla c'è un ritardo però magari vi vedo in necessità quello sì andiamo a vedere però qui poi vedi il ritardo però poi qui l'aiuto arriva qui c'è l'aiuto perché c'è la cooperazione c'è il c'è il team quindi ci sono più persone che si uniscono insieme per fare qualcosa quindi io non so che cosa state facendo che cosa dovete fare però qui durante la settimana guarda le cose poi si smuovono quindi qui non vi demoralizzate qualsiasi cosa accada esattamente è solo un ritardo è solo un ritardo una piccola pausa vediamo ancora per la settimana prossima mazzetto numero 1 guarda qui c'è l'ambizione ambizione lo spazio la contentezza e questa è una carta molto molto bella è la contentezza all'arrivare a qualcosa di questa ambizione e la positività quindi mi raccomando fate appello anche alla legge di attrazione o comunque sia il buon senso rimanete positivi qui c'è una bella ambizione vostra e l'ho vista anche da quest'asso di bastoni poi c'è un altro asso insomma qui c'è un'ambizione ad arrivare da qualche parte a fare un qualche cosa sicuramente dico sicuramente ce la fate qui non ho dubbi l'unico dubbio che ho sono i tempi perché qui un pochino tutte le carte mi parlano di rallentamento in qualcosa che capito una piccola pausa quindi magari dovevate iniziare semplicemente qualcosa in durante queste giornate durante questi giorni ma dovrete rimandarlo di un minino di tempo c'è tutto qua tutto qua nulla di nulla di tragico di assolutamente irreversibile qui c'è anche la contentezza quindi voglio dire la contentezza l'ambizione sono carte molto 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 belle fammi tirare ancora un paio di tarocchi andiamo a vedere ho messo anche l'oroscopo per tutti i segni zodiacali per il mese di febbraio ti lascio il link o in fondo al video ma anche nella descrizione del video o altrimenti lo vedi apparire adesso qui vai a vederlo perché ne vale la pena guarda qui addirittura fanno vedere questo desiderio di indipendenza di intraprendere questo cammino che potrebbe essere un'impresa come si dice no diventare imprenditore imprenditrice un nuovo lavoro insomma qui c'è un qualcosa che sta diventando quasi quasi un'ossessione per te c'è proprio tanto che ci pensi tanto che c'è questa ambizione così così forte allora qui ti ripeto ci potrebbe essere semplicemente un momento di pausa un momento di rallentamento che devi aspettare un pochino di più però qui le carte mi promettono un successo futuro qui c'è una grande soddisfazione anche perché qui c'è una forte determinazione a riuscire a riuscire qui semplicemente ci sono delle cosine ancora dobbiamo esplorare dobbiamo studiare dobbiamo verificare prima di partire alla grande di andare però qui ci potrebbe essere non ci potrebbe qui c'è il successo special modo se stiamo parlando di lavoro di lavoro di un qualcosa che dobbiamo fare dobbiamo intraprendere si tratta solo di dover magari aspettare un pochino quindi un attimo di ma non perché chissà cosa semplicemente perché c'è da studiare un pochino meglio la situazione che sia perché qualcuno ci deve ancora dare la sua risposta che sia perché siamo noi e dobbiamo ancora studiare un pochino come muoverci cosa fare in special modo economicamente parlando magari sono proprio i denari il problema i soldi quindi il discorso economico finanziario diciamo quindi dobbiamo però qui le carte non sono negative tutt'altro mi raccomando quindi non desistere non demordere mi raccomando a te fammi sapere naturalmente giù nei commenti un bacione a tutte e tutti i maschietti presenti ciao alla prossima ma non trovo più quel video ma dove l'ho messo eccoci qua vi lascio ai miei vi uffa non lo trovo perché non va a vi lascio a questi altri miei due video quindi no Grazie a tutti